Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 greco del quinto secolo avanti cristo stiamo parlando dell'immagine della pergamena alto medievale e così via oppure quando parliamo di patrimonio culturale digitale stiamo parlando di quelle immagini accompagnate da tutta una serie di dati ulteriori contenenti informazioni necessarie alla comprensione di cosa sia il contenuto di quell'immagine che corrisponde ad un bene fisico di partenza ancora il digitale questa categoria abusata nelle narrazioni comuni ormai e mezzo e fine e strumento e strategia e dimensione che cos'è torno al tema del codice dei beni culturali qui vi avevo messo i riferimenti all'esperienza di questa mattina ma sono evidentemente già superati tornando alla questione della definizione di fatto in questo momento nell'ordinamento nazionale relativo ai beni culturali non c'è una definizione completa di cosa sia il patrimonio culturale digitale e al momento attivo a livello ordinamentale il piano nazionale di digitalizzazione nella sua prima nella sua seconda edizione su cui si poggiano poi tutte le azioni che si stanno costruendo le azioni di digitalizzazione del patrimonio culturale che si stanno costituendo e allestendo a valere sui fondi del PNRR ma una definizione puntuale di cosa sia il patrimonio culturale digitale nell'ordinamento nazionale in questo momento non esiste. Aggiungo un ulteriore pezzo che ha a che vedere con quello che io spero possa essere un valore aggiunto della mia testimonianza qui e cioè il nostro essere chiamati come ente di tutela che ha il compito di vigilare sugli archivi pubblici e sugli archivi privati notificati siamo chiamati a vigilare anche sugli archivi digitali cioè sul patrimonio culturale digitale quindi siamo in un un pass dal punto di vista giuridico siamo in un un pass in cui la nostra attività è fondata su uno strumento normativo che è il codice dei beni culturali all'interno del quale l'oggetto che pure siamo chiamati su cui siamo chiamati a rispondere in termini di responsabilità ovvero il nostro compito è quello di garantire la permanenza di quel patrimonio nel tempo l'azione di tutela è essenzialmente questo siamo chiamati a garantire la permanenza nel tempo di un oggetto che nel codice non è definito. Quindi primariamente il tema di cosa sia il patrimonio culturale digitale ha a che vedere proprio con un bisogno giuridico che riviene dal funzionamento da quello che si può fare non si può fare oggi in Italia con il patrimonio culturale lato senso inteso e allora come facciamo a definirlo? Cioè noi siamo chiamati e questo è un problema che fondamentalmente ha l'ufficio di tutela archivistica prima di tutti gli altri per una ragione che vi racconto immediatamente per due ragioni che vi racconto immediatamente. La prima la tutela archivistica si esercita in termini di esercizio di funzione di vigilanza anche sugli archivi digitali nativi. Torniamo alla domanda di prima cosa è il patrimonio culturale digitale se penso per esempio agli archivi restringendo un momento il campo è corrispondente agli archivi digitalizzati o digitizzati perdonatemi la parolaccia ma ve la spiego fra poco nel caso degli archivi la sovrintendenza archivistica è chiamata a vigilare anche sugli archivi nativi digitali ovvero su tutti i flussi documentali che si producono negli enti pubblici quotidianamente nell'esercizio dell'azione amministrativa corrente. Cioè in questo momento il documento che è in corso di produzione da parte dell'ufficio anagrafe del comune di Milano è bene culturale esattamente come la pergamena del nono secolo conservata presso l'archivio di Stato e allora noi siamo chiamati a vigilare anche sulla tenuta di questi flussi documentali di tutti gli enti pubblici per avere un'idea quantitativa di quello di cui stiamo parlando solo in Lombardia i soggetti pubblici, nella sola Lombardia i soggetti pubblici vigilati enti locali, sanità, scuole, università eccetera ammontano a circa 17.000 unità e sono tutti soggetti che in questo momento stanno producendo archivi digitali cioè stanno producendo patrimonio patrimonio culturale digitale nativo quindi rispetto alla domanda iniziale cos'è il patrimonio culturale digitale oltre alla risposta parziale che ho provato a dare prima abbiamo anche un altro pezzettino ma tutto questo, ribadisco, non è definito, disegnato, reso noto, messo in chiaro nelle norme, nel Codice dei beni culturali le linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale che a loro volta rivengono, sono uno strumento regolativo di soft law che riviene dalla, che parla con il Codice dell'Amministrazione digitale prevedono una norma a fronte della quale le soprintendenze archivistiche sono chiamate all'approvazione, all'autorizzazione dei manuali di gestione dei flussi documentali degli enti pubblici quindi noi dobbiamo vigilare per accertarci che quegli archivi che nascono oggi come digitali perché lo dice il Codice dell'Amministrazione digitale permangano nel tempo perché altrimenti domani o dopodomani i futuri archivi storici del comune di Milano di oggi non potrebbero esistere le definizioni allora se vogliamo fare un discorso sul patrimonio culturale digitale le fonti come facciamo a disegnare il perimetro non dico normativo ma almeno concettuale e quindi ontologico logico e ontologico di conseguenza all'interno del quale muoverci e all'interno del quale posizionare l'esercizio delle nostre funzioni atteso che siamo chiamati a questo gli altri uffici di tutela non hanno lo stesso problema anche perché e aggiungo un ulteriore segmento alla richiesta iniziale di definire cosa sia il patrimonio culturale digitale nel momento in cui il patrimonio culturale quale è declinato nell'articolo 10 del codice dei beni culturali con le diverse fattispecie fino a quella finale che come dire racchiude tutto quello che non è stato detto prima il patrimonio culturale materiale e immateriale comunque fisico nativo analogico nel momento in cui viene tradotto in una forma diversa che è la forma digitale diventa un archivio digitale cioè nel momento in cui faccio un rilievo BIM di un edificio il prodotto di quel rilievo è un oggetto archivistico nel momento in cui una collezione di quadri viene tradotta in digitale il prodotto è un oggetto archivistico digitale nativo se lo guardo come prodotto che è nato in quel momento e questo dal punto di vista giuridico rispetto alla natura di quell'oggetto che si produce genera già una serie di conseguenze l'assunto è il patrimonio archivistico pubblico nasce bene culturale togliamo anche quello statale nasce bene culturale nel momento in cui quel patrimonio che nasce bene culturale diventa viene tradotto in forma digitale la sua natura giuridica dal punto di vista dell'imputazione dal punto di vista del principio dominicale che è quello intorno al quale il codice dei beni culturali è costruito non cambia quindi quel prodotto digitale è parimenti bene culturale esattamente come il bene di partenza se anche la traduzione digitale di un edificio o di una collezione artistica è un oggetto di natura archivistica quell'oggetto di natura archivistica se il soggetto proprietario è un ente pubblico è anch'esso per definizione bene culturale a prescindere questo è il dato rilevante a prescindere dall'elemento della cronologia di riferimento infatti quando si parla di beni monumentali o di beni storico-artistici c'è il tema della cronologia di riferimento il bene ha almeno 70 anni se non ha almeno 70 anni ultimamente da ultimo si come dire si ventila l'ipotesi di allungare ulteriormente quest'arco cronologico a fronte del quale si può attivare il percorso di verifica per la riconoscibilità dell'interesse culturale di quel bene se il bene almeno se il bene non ha almeno 70 anni non si può fare nessun ragionamento di valutazione rispetto alla culturalità di quell'oggetto questa condizione non vale quando l'oggetto sottoposto a valutazione è un oggetto archivistico perché archivio ci nasci archivio come bene culturale ci nasci non ci diventi per cui se sei quella cosa lì cioè se sei un bene archivistico prodotto da un soggetto pubblico sei bene culturale per definizione e non è necessaria alcuna verifica della natura culturale di quell'oggetto quindi stiamo dicendo che tutta la produzione digitale pubblica di questi nostri giorni sia quella derivata fatemi usare questo termine rapido per non ripetere sempre la locuzione sia quella nativa se è un oggetto archivistico bene culturale ci nasce e qui si apre tutto lo scenario dell'utilizzo spropositato dei beni dei fondi pubblici che si sta facendo in questo momento sulla partita della digitalizzazione vado un attimo avanti poi ritornerò ancora sul tema della definizione vediamo se ve l'avevo detto in premessa che non sono capace di leggere le slide preferisco magari dirvi qualcosa in meno e poi sottopormi alle vostre domande allora a titolo esemplificativo gli investimenti PNRR sulla partita del digitale 1C1 misura 1 componente 1 misura 1 componente 3 molto in breve misura 1 componente 3 il piano cultura 4.0 con una serie di missioni grosso modo diciamo in sintesi e in generale si parla di digitalizzazione del patrimonio culturale nativo analogico questo grosso ombrello sotto questo grosso ombrello ci sono gli investimenti sulla digitalizzazione del patrimonio culturale nativo analogico dello Stato e gli investimenti sul patrimonio culturale nativo analogico delle regioni e degli enti locali la governance costruita intorno a questo ombrello di finanziamenti è molto complessa non starò qui a descrivervela ma il concetto è che ci sono alcune misure gestite direttamente dallo Stato da uffici centrali e una serie di altre misure che su partite differenziate viaggiano attraverso quelli che si chiamano i soggetti attuatori cioè le stazioni appaltanti regioni in alcuni casi enti locali direttamente in altri casi eccetera c'è un centro di coordinamento di tutto questo fronte digitalizzazione patrimonio culturale che nasce analogico sì dovrebbe essere la digital library che è l'istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale in capo al MIC ma di fatto non è solo un tema di governo diretto perché la digital library può governare direttamente soltanto le misure gestite direttamente dallo Stato tutta una serie di altre misure quelle gestite dalle regioni quelle che atterrano ai diversi livelli istituzionali locali possono essere coordinate in punto di governance dove gli strumenti di governance dovessero essere stati definiti correttamente il che non è e quindi siamo in una situazione in cui di fatto non abbiamo un'idea chiara di quello che sta succedendo nel paese e qui siamo solo al pezzetto che è quello più facile della digitalizzazione del patrimonio culturale nativo analogico se poi andiamo sull'altro pezzetto che è la missione 1 componente 1 titolo digitalizzazione innovazione sicurezza tutta la partita della transizione digitale della pubblica amministrazione per capirci che attiene alla reingegnerizzazione dei processi organizzativi a fronte dei quali le pubbliche amministrazioni producono prestazioni e servizi reingegnerizzazione dei processi organizzativi che si traduce in flussi documentali digitali sui quali l'ente di tutela è chiamata ad esprimersi nell'esercizio della propria funzione di vigilanza se transitiamo a questa partita qui guardate l'oggetto di intervento sono gli archivi pubblici il prodotto sono gli archivi pubblici il risultato vorrebbe essere la transizione digitale punto interrogativo qual è la governance di questa partita non c'è perché stiamo parlando di un mare di investimenti sono sei mesi che ho tra i vari uffici quattro persone quattro unità quando dire quattro unità nei nostri uffici significa tantissima roba perché siamo ridotti al lumicino ha destinate dedicate a fare la mappatura di questi investimenti di come si stanno muovendo di come atterrano sui territori perché torno all'inizio se io sono chiamata a garantire la vigilanza sulla tenuta sulla permanenza di quello che si sta producendo e non so cosa si stia producendo dove abbiamo un problema non è possibile a questa data avere una mappa certa di quanti danari e per quali obiettivi stiano atterrando sugli enti locali concorrenti anche su obiettivi analoghi con in assenza di governance perché le diverse come dire è a canne d'organo la strutturazione e l'organizzazione quindi si sta producendo una digitalizzazione massiva dei processi della pubblica amministrazione e pubblica amministrazione sono anche i musei civici cioè tutti quelli che stavano nell'altra misura che stanno digitalizzando il patrimonio nativo e che poi lo devono gestire in qualche modo di cui non riusciamo a sapere nulla anche se ci poniamo il problema di saperlo quando la intercettiamo tutta questa partita quando per fare qualcuna di queste operazioni l'ente perché non sono tutti nel piano nazionale di digitalizzazione viene invocato il concetto della maturità digitale cioè si dice gli enti devono attingere e conseguire obiettivi di maturità digitale come dire ci deve essere all'interno dell'ente una cultura organizzativa perché maturità digitale non ha a che vedere con la presenza di hard skills di tipo digitale informatico in capo al personale che è pure un tema interessante da indagare ma maturità digitale presuppone una cultura organizzativa dell'ente rispetto alla reingegnerizzazione dei processi organizzativi in termini digitali che è altro dalla digitalizzazione di un oggetto che nasce fisico cioè significa riorganizziamo il processo il documento che prima il commesso doveva portare da una stanza all'altra appoggiarlo su un tavolo ritirarlo firmato adesso passa attraverso un sistema di gestione documentale all'interno del quale i presidi e i compiti sono definiti e individuati questo è la reingegnerizzazione maturità digitale significa che l'ente deve avere contezza di tutto questo e succede questo se vi devo dare una mappa sintetica e generica rispetto a quello che accade in Lombardia sui nostri 17.000 enti e in Lombardia sono bravi as usual non è proprio così non sempre quindi abbiamo una difficoltà qui non entro nei dettagli a fronte di queste considerazioni io ritorno al tema della definizione di cosa è il patrimonio culturale digitale di quali caratteristiche debba avere quando andiamo a guardarci dentro per poi chiudere se mi riesce con alcune considerazioni di tipo più generale più metodologico dicevamo quindi alla luce di tutto questo sebbene ci siano in questo momento grossissimi investimenti per totali spaventosi su questi obiettivi cosa sia quello che stiamo andando a fare non ce l'abbiamo esattamente chiaro perché nelle norme non è scritto e allora dove ce le andiamo a cercare le informazioni ce le andiamo a cercare nei documenti europei tanto per cambiare molto rapidamente ma ripeto queste sono informazioni che vi posso lasciare questa è una delle definizioni più interessanti recuperate che sono appoggiate su contenuti di decisioni del Consiglio datate al 2014 poi riprese nel 2018 di una serie di documenti anche del Consiglio d'Europa della Commissione insomma c'è tutto un concorso di documenti europei che a partire dall'inizio degli anni 2000 data per darvi un elemento di riferimento la data della Convenzione europea del paesaggio ad un certo punto l'Europa nelle sue diverse articolazioni e a parte il Consiglio d'Europa hanno cominciato ad interrogarsi su cosa sia il patrimonio culturale hanno tirato fuori una serie di documenti di orientamento per dire ai paesi membri attenzione signori paesi membri è vero che la cultura è appannaggio esclusivo dal punto di vista normativo e regolativo delle legislazioni nazionali però vi diamo delle indicazioni complessive anche perché nella misura in cui la comunità è un costrutto logico e la cultura è un costrutto relazionale ovvero sono entrambi dei costrutti culturali che si producono per inferenza progressiva a partire per l'appunto dal patrimonio culturale che è materiale a fronte di tutto questo vediamo dell'indicatore dei driver affinché le comunità e dei singoli stati dei singoli paesi membri siano nelle condizioni di comprendere come collocare la propria tradizione culturale nazionale appoggiata sul proprio patrimonio nel contesto della comunità europea quindi l'Europa ha cominciato nelle sue diverse articolazioni nei suoi diversi organi a fare questo lavoro di definizione ha tirato fuori una serie di documenti l'elenco ve lo posso fornire ma non stiamo qui a guardarci dentro che pure varrebbe la pena uno dei network che si sono costruiti a livello nazionale che comprendono enti di ricerca istituzioni pubbliche soggetti privati su questo tema che hanno discusso su questo tema a partire dai documenti europei hanno prodotto è quello che trovate in basso hanno prodotto questa definizione che leggiamo molto rapidamente insieme digital culture heritage patrimonio culturale digitale non è per passione per l'inglese che ve lo dico in inglese ma perché per l'appunto sono concetti che sono nati fuori dal nostro territorio nazionale e parlare di heritage è diverso heritage non è esattamente patrimonio heritage è eredità mentre nel concetto di patrimonio c'è molto di più c'è un concetto giuridico che appoggiato sulla tradizione giuridica romana nazionale nostra patrimonio è il dono del padre ma è anche l'obbligo nei confronti del dono ricevuto ovvero è ho ricevuto un qualcosa in eredità e me ne devo occupare o degli obblighi ho l'obbligo di occuparmene per garantire la permanenza che poi è il contenuto dell'articolo 9 della costituzione quindi usare la locuzione inglese ha un significato perché colloca in un universo di senso specifico questo discorso che poi dobbiamo giocoforza importare all'interno della nostra tradizione che è giuridica che è gestionale che è organizzativa ma dobbiamo avere chiaro da dove partiamo dice si di dch la dico così per sbrigarmi l'ecosistema di processi entità fenomeni virtuali nativi digitali e digitalizzati le due grandi macro le due macro categorie sulle quali abbiamo ragionato che in quanto validati certificati trasferibili resilienti riusabili e replicabili nello spazio tempo sono testimonianze manifestazioni ed espressioni rappresentative dei processi evolutivi e connotano ogni comunità ogni contesto socioculturale ogni ecosistema semplice o complesso dell'era digitale assumendo la funzione di memoria storica e fonte di conoscenza per le generazioni future come dire tutto esatto questo il problema è proprio questo è dire tutto ed è dire niente ma è dire se ci guardiamo un momento dentro una cosa un po' specifica è cioè che quando parliamo di patrimonio culturale digitale stiamo parlando degli oggetti ma anche di tutta quella rete di relazioni di significati che tecnicamente gli archivisti chiamano metadati che intorno a quegli oggetti che con quegli oggetti camminano cioè le informazioni di corredo che sono quelle che si generano mano a mano che l'oggetto digitale viene utilizzato e che si porta presso le tracce del proprio utilizzo è stato utilizzato da tizio in una tale ora da quel pc da quell'indirizzo per farci questa cosa è stato trasmesso è stato riconfigurato ha cambiato formato eccetera eccetera ma anche quelli che si chiamano i metadati descrittivi che sono quel set di informazioni che chi produce l'oggetto digitale sceglie come set di informazioni di corredo da aggiungere alla chiamiamola immagine per capirci all'oggetto per chiarirlo come dire la didascalia delle foto che troviamo nei cassetti degli archivi di famiglia quelli sono i metadati posso decidere di aggiungerci altre cose dove era dove erano le persone di quella foto in quel momento che ora era che festa era chi era invitato a quella festa chi l'aveva organizzata eccetera eccetera secondo un ventaglio e un elastico che si può allargare e stringere a seconda della scelta di chi compie questa operazione e allora all'interno di questo tutto di questo niente a seconda di come lo vogliamo guardare c'è un tema fondamentale che è di fatto un tema di democrazia e ha a che vedere con l'accessibilità della conoscenza e con l'obbligo in capo ai soggetti pubblici di garantire l'accesso al patrimonio culturale in termini di apprendimento da parte di ciascuna persona e delle comunità questo è nell'articolo 9 della costituzione implicitamente viene spiegato meglio nel codice dei beni culturali viene completamente ribaltato in termini di prospettiva nella convenzione di faro ratificata solo nel 2020 nell'ordinamento nazionale in cui si dice attenzione nella definizione del patrimonio culturale dobbiamo smetterla di fare un ragionamento top down ma bisogna partire da ciò che è valore per le comunità quindi il caravaggio un quadro di caravaggio ha un valore eccezionale di per sé in questo ragionamento il valore del patrimonio culturale diventa quello riconosciuto dalla comunità come significato e questo presupposto in questa chiamiamola definizione c'è è un presupposto e ha molto a che vedere con le modalità con le quali si produce il patrimonio culturale digitale se vi andate a vedere le descrizioni appunto nei progetti del PNRR basta farsi un giro sui siti di qualunque ente di qualunque museo di qualunque istituto culturale in questo momento c'è di tutto troverete spesso come collegata come collegate ai ragionamenti sul patrimonio culturale digitale due presunte e dico presunte dimensioni di valore una è la seguente il significato e il valore del patrimonio culturale nel momento in cui il patrimonio culturale diventa digitale sono il prodotto e l'espressione di ciò che è valore per la comunità perché quell'oggetto digitale che tu vedi a cui accedi in termini di conoscenza che è il patrimonio culturale digitale è prodotto grazie al concorso della comunità e dei soggetti che possono interagire attraverso lo strumento digitale con quell'oggetto lì e dal momento che è l'espressione di un concorso di interventi cioè di un concorso di significati aggiunti all'oggetto originario attraverso linguaggi e scritture differenti le modalità cooperative collaborative di produzione della conoscenza negli ambienti digitali allora quell'oggetto digitale diventa per definizione espressione di ciò che è valore per quella comunità mica poco dal punto di vista delle implicazioni perché se quello è patrimonio culturale abbiamo l'obbligo di garantirne la permanenza e garantirne la permanenza significa anche fare gli investimenti non solo e non tanto per produrlo ma per conservarlo e chiuderò con una slide sui costi della conservazione permanente parola grossa a lungo termine del digitale in nessuno dei quadri economici che in questo momento accompagnano gli investimenti PNRR sulla digitalizzazione c'è una previsione una di un euro per la conservazione a lungo termine di quello che si sta producendo e in proporzione se per produrre e trasmettere a base 10 impegniamo 2 per la conservazione che è il problema che si pone dal momento dopo non fra 10 anni dal momento dopo lo devo mantenere su 10 2 per produrlo e 8 per mantenerlo prendete i numeri degli investimenti sul digitale che in questo momento ci sono nel nostro paese fate qualche conticino e capiamo subito che abbiamo più di qualche problema perché se quello è patrimonio culturale digitale perché archivio e perché pubblico le cose che ho detto prima non ci stiamo interrogando su come mantenerlo non lo so se si tratta di un atterraggio o di un ammaraggio senza paracadute o fate voi sempre sulle definizioni le categorie e poi mi fermo e vi faccio vedere la slide sui costi e magari apriamo la discussione perché credo di avere solo 4 minuti ancora se il presidente me lo consente eredità digitale nativa traduco alla lettera volutamente per richiamare il punto di attenzione precedentemente espresso sul lessico digitale per l'eredità culturale digitale come eredità culturale sono sguardi diversi sullo stesso oggetto che generano o dovrebbero generare policy e politics cioè processi attuativi delle policy differenti che è un po' quello che abbiamo provato a dire finora cosa c'è di cosa è fatto altri documenti europei sul tema c'è tutto un tema poi di scusate no mi fermo cosa c'è dentro di cosa è fatto di cosa sono fatti questi archivi digitali questo patrimonio culturale digitale è fatto di dati da intendersi come processi da intendersi come parole da intendersi come qualsiasi oggetto possa essere formalizzato con un linguaggio specifico definizioni di dati digitali culturali le caratteristiche che caratteristiche devono avere questi dati si parla dei principi fair alla quarta cioè devono essere ricercabili findable accessibili la cioè aperti cioè non necessariamente aperti interoperabili e la i e la r e corrisponde a record ma corrisponde anche al concetto di riusabilità di leggibilità e anche intellegibilità di rilevanza di affidabilità di resilienza non credo di doverli spiegare la resilienza parola anche questa abusata almeno come sostenibilità qui stiamo dicendo una cosa specifica deve resistere come dato come dato e come insieme di dati in un contesto di relazione cioè come archivio è questo che stiamo rischiando era forever non lo sappiamo il tema della democrazia il tema dei costi questi un po' di numeri del PNRR arrivo alla slide sui costi il tema della sostenibilità con il raccordo di questi ragionamenti con lo stato di avanzamento nel conseguimento degli obiettivi contenuti in agenda 20-30 con il riferimento a una serie di documenti pubblici e ufficiali redatti da Camera dei Deputati da Istat da Corte dei Conti rispetto alla mappatura e all'analisi degli allineamenti o disallineamenti o scostamenti rispetto alle possibilità di conseguimento di quegli obiettivi a fronte degli investimenti che su questo tema si stanno facendo nel sistema paese adesso qui ci sono i riferimenti di quale sostenibilità stiamo parlando e vengo al tema dei costi digitale non è immateriale potrete leggere in numerose pubblicazioni in riferimento al digitale come a patrimonio culturale immateriale qualcuno ha anche tentato di codificarla in termini giuridici patrimonio culturale digitale è immateriale no il patrimonio culturale digitale è materialissimo perché atterra su server che sono grandi quanto tre stadi di San Sirio affiancati che sono energivori e che per essere mantenuti in cloud come nei documenti nazionali della strategia per la transizione digitale del paese si scrive hanno bisogno di mangiare energia quindi di quale sostenibilità stiamo parlando o forse non dovremmo cominciare a interrogarci a fronte della produzione di tutto questo patrimonio culturale digitale nativo derivato eccetera sulle possibilità di conservare questo patrimonio si chiamano glaciers credo cioè in unità non in cloud ma in unità di stoccaggio per poi recuperarli quando servono e aggiungo un'altra domanda se questa può essere una via di uscita ed è una proposta la pongo come termine di discussione e a cosa serve allora a digitalizzare tutto questo sforzo di traduzione digitale se poi comunque per il recupero di quel documento dell'encoding di quel documento che andrà a produrre l'oggetto digitale visibile leggibile quando lo chiedo a richiesta devo comunque chiederlo esattamente come faccio quando vado all'archivio di Stato di Milano per far estrarre un documento dal faldone che sta nei depositi non lo so facciamo facciamo il modello di business di tutto questo per cambiare lessico e come dire e framework di riferimento qual è? a proposito di infrastrutture abilitanti digitali esempi di sostenibilità il cavo sottomarino circunafricano che consente la connettività di un intero continente significa 50.000 tonnellate di plastica e metalli depositati in fondo al mare i data center mediamente estesi quanto due stadi di San Siro affiancati si misurano in megawatt di potenza assorbita taglia minima di un data center quota circa 100 megawatt il doppio del fabbisogno di una città come Monza il tema di dove di dove vengono messi i server arrivo quanto costa un terabyte in termini di assorbimento in termini di energia fra produzione comunicazione quindi cloud communication cloud processing e archiviazione guardate i numeri e le percentuali non lo so che cosa stiamo che cosa stiamo combinando abbiamo sicuramente un problema abbiamo sicuramente delle domande da farci e la prima domanda è cosa è valore per noi in questo momento ovvero perché possiamo anche decidere che il valore sia seccamente in maniera rude quello finanziario ma anche lì i conti non tornano abbiamo una responsabilità come enti pubblici e abbiamo la responsabilità di fare in modo che tutto il set delle conoscenze tecniche archivistiche giuridiche tutto il set degli strumenti di cui abbiamo bisogno per fare il lavoro che siamo chiamati a fare si traduca in un punto di responsabilità capace di orientare le scelte e le polisi correttamente questi sono esempi di dimensione del valore non so su quali di queste dimensioni ci stiamo posizionando io mi fermo qui con le domande mi piacerebbe ricevere dei feedback il più possibile critici vi ringrazio molto grazie